Grazie a tutti. A parlare di quelle che sono le proposte, le ricette presentate dal governo italiano per rispondere alla crisi, alle esigenze delle imprese, al problema dei giovani che non devono perdere la motivazione, che non devono essere raccontati diversamente da quello che sono. Cioè persone volenterose che si preparano, che studiano e che poi cercano uno sbocco e una realizzazione nel mondo del lavoro. Forse su questo vedremo che è cambiato, deve cambiare l'approccio, ma ci arriveremo pian piano. Perché intanto stavamo analizzando con i nostri ospiti quello che è stato il metodo di presentare queste ricette da parte del primo ministro. Allora io volevo chiedere, dopo aver sentito giudizio e commenti un po' più tecnici, l'impressione di una ragazza che è Jessica Morini. Quanti anni hai? 23. 23 anni. Ti sei appena laureata. Sì. Abbiamo valutato questo nuovo metodo comunicativo del governo, fatto di giovani, fatto per metà di donne, per cui che vuole dare dei segnali nuovi. E allora voglio chiedere a te che rappresenti il nuovo, perché sei giovane, perché condizionerai anche il futuro del nostro paese. Che lettura dai se ti ha colpito o se hanno centrato un obiettivo? Beh, sicuramente il metodo utilizzato da Renzi è nuovo, perché per la mia poca esperienza posso dire che è qualcosa che non ho mai visto, anche se sono così giovane. È nuovo anche nel modo di porsi, anche nell'utilizzo dei nuovi media, questo utilizzo massivo di Twitter, di Facebook. È più vicino alle persone e questo secondo me si nota, si vede, io lo vedo. Poi non è che sia un'esperta da poter dire, da poter usare chissà quali tecnicismi, però sicuramente questa differenza io l'ho notata. E allora entriamo adesso invece nel merito dei contenuti. Allora andiamo a sentire la valutazione espressa dal centro studi di Nomisma sulle misure presentate che poi cominceremo a scandagliare insieme. Quello presentato dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi è in generale un quadro di misure di stimolo all'economia promettente che va ora concretizzato. È quanto ha affermato in una nota il capo economista di Nomisma, Sergio Denardis, secondo cui resta però il punto interrogativo del costo complessivo delle misure e della loro copertura finanziaria. A giudizio dell'esponente del centro studi bolognese è una scelta giusta il taglio IRPEF concentrato sui contribuenti delle fasce di reddito più basse che hanno propensione al consumo più elevata. Questo aggiunge va nel senso di attenuare la situazione di difficoltà delle famiglie e di sostenere la congiuntura. A parità di altre condizioni le maggiori spese di questi consumatori potrebbero accrescere il PIL anche di uno 0,3% nel 2014. Invece, prosegue Denardis, poco percettibili sarebbero gli effetti sul PIL della riduzione dell'IRAP per le imprese. Poi, viene osservato, una ripercussione favorevole sul ciclo dovrebbe avere l'iniezione di liquidità col pagamento alle imprese dei debiti della pubblica amministrazione. I precedenti pagamenti, puntualizza l'economista di Nomisma, sono andati in gran parte a riduzione dell'esposizione bancaria delle imprese e a saldare gli arretrati con i fornitori. In questa fase più positiva del ciclo si potrebbe vedere qualche effetto sugli investimenti. Ad ogni modo, commenta ancora Denardis, resta però il punto interrogativo del costo complessivo delle misure e della loro copertura finanziaria. È un passaggio essenziale per ridurre margini di incertezza e consentire così il pieno dispiegamento degli effetti espansivi quando le misure verranno realizzate. Anche perché, viene sottolineato, occorre tenere conto che accanto ai provvedimenti su IRPEF, IRAP, ASPI, edilizia scolastica, costo energia, anche la decisione di liquidare i restanti debiti della pubblica amministrazione, stimati in 68 miliardi, va a impattare in una misura da determinare sul disavanzo di quest'anno e di quelli futuri, oltre che ad accrescere naturalmente il debito. Tuttavia, chiosa Denardis, se c'è una strada di possibile rinegoziazione del vincolo di bilancio con l'Unione Europea, è utile percorrerla. Prima si chiariscono questi aspetti, tanto più efficace sarà l'azione del Governo. Dunque, prima di vedere nel dettaglio come aiutare, in particolare siamo focalizzati sui giovani, abuseremo di questo termine in questa trasmissione, però abbiamo individuato in questo una chiave importante, quindi tanto vale ribadirlo. Volevo invece partire dal presupposto, cioè investire in formazione vuol dire diventare un Paese migliore. Il tema è formarsi per intanto entrare nel mondo del lavoro, poi su come rimanerci magari ci guarderemo. Andrea Cammelli. Ma sai, noi abbiamo perso, il Paese ha perso dal 1985 ad oggi, ha perso il 38% dei giovani 19 anni. Ed è evidente che un Paese che perde tutta questa, dico ben di Dio, sostanzialmente, noi possiamo dire molte volte che noi siamo passati da una piramide di coperità a un asso di picche. Il Paese, se non punta ai giovani, evidentemente rischia di perdere una possibilità straordinaria di andare avanti. Noi oggi stiamo pensando molto alle persone anziane, purtroppo, ma ai giovani sono, dico assolutamente, indispensabili. Gli anziani sono tanti. Ma non solo, dico gli anziani, dico sono tanti, ma sono anche poco, dico, preparati. Sui giovani che oggi si iscrivono, dico, all'università, soltanto il 30% dei 19 anni si iscrive all'università. Allora, questo vuol dire, naturalmente, che il Paese sta perdendo delle opportunità, dico, strepitose, straordinarie, perché se 70 donne su 100 e 70 ragazzi su 100, non si iscrivono, dicono, all'università, il Paese, noi siamo a fondo scala. Nella, dico, o statistiche, nelle statistiche, dico, dell'Ocse, fra i 27 Paesi, noi siamo in fondo. Noi siamo in fondo. E abbiamo, per la verità, anche molti imprenditori che fanno i manager, per la verità, poco preparati. Quando invece sono laureati, voi avete dimostrato che tendono ad assumere e a valorizzare maggiormente i giovani laureati? Non siamo noi. È stata sia la Banca d'Italia che ha messo in evidenza che nello stesso settore, nella stessa capacità, nella stessa, dico, azienda, un giovane, un imprenditore si è laureato, assume tre volte i laureati rispetto all'imprenditore che non lo è. Forse, ma questo può essere, dico, si è spiegato da altri, è chiaro che c'è probabilmente un senso di invidia, e di, dico, di gelosia, di preoccupazione, in qualche modo, anche in grandi imprenditori che sono capacissimi, che hanno inventato tanto negli anni scorsi, ma che oggi si possono vedere, probabilmente, se uno, se un ragazzo conosce le lingue straniere, se un ragazzo, dico, conosce internet, se un ragazzo ha viaggiato, dico sì, per il mondo, l'imprenditore, ancora straordinariamente avanzato, rischia di vederlo come una, dico, persona che in qualche modo gioca contro. E invece è una risorsa. E allora, visto che Giorgia Bucchioni, come delega all'interno di Confindustria Giovani, si è occupata proprio, si è occupata, dico perché ormai il suo mandato sta volgendo al termine, però, insomma, si è occupata di education e lavoro. Questo significa creare delle risposte a quanto stava sottolineando Andrea Cammelli. Come? Confindustria, il gruppo Giovani, ha appunto deciso, nello scorso mandato, col presidente Morelli, innanzitutto di dare un segnale importante, cioè di mettere una vicepresidenza che non fosse più solo education, ma education e lavoro. Questo a testimoniare il fatto che non si può più parlare di formazione senza parlare di lavoro, non si può più parlare di lavoro senza parlare di scuola, di università, di formazione dei giovani. Un paese che non investe sui propri giovani è un paese che è destinato a non crescere, quindi un paese che rimane fermo. Noi, come Confindustria Giovani, ci siamo proposti di portare avanti determinati progetti, sia per le scuole superiori, ma anche e soprattutto per l'università e i collegi di merito, cercando proprio di creare delle sinergie tra quello che è il mondo della scuola e della formazione e il mondo dell'impresa. Sicuramente non è facile portare avanti questo genere di progetti perché in Italia sono tante le piccole e medie imprese, le micro imprese, poche le grandi imprese e in un momento di difficoltà come questo è anche molto difficile trovare imprenditori che tutti i giorni devono far tornare i conti, la coperta è sempre troppo stretta e farli invece occupare proprio anche della formazione dei giovani. Devo dire però che i risultati che abbiamo ottenuto nel triennio, ma anche quest'anno, sono stati molto positivi, abbiamo avviato proprio dei percorsi di dialogo tra l'imprenditore che si affianca ai giovani, ai ragazzi, accompagnandoli nel loro percorso di sbocco al di fuori del mondo appunto scolastico e facendogli conoscere il mondo del lavoro. Che cosa portiamo a casa noi imprenditori? Portiamo a casa una competenza che solo i nostri giovani oggi neolaureati, neodiplomati hanno, di innovazione, di tecnologia, di internazionalizzazione, di mondo globalizzato e di freschezza che loro per natura hanno e che noi per quanto bravi, capaci, non abbiamo la stessa preparazione. Quindi uno scambio è un doubt-of-death importante nel momento in cui noi imprenditori apprendiamo tutto questo dai giovani, i giovani si affacciano nel mondo del lavoro entrando concretamente all'interno dell'impresa. Come abbiamo detto, intanto entrano che è già buona cosa. Perché l'importanza, noi continuiamo a dire che la cosa importante in Italia che non c'è, su cui bisogna puntare tantissimo è il puntare sull'alternanza scuola-lavoro. Questa è una cosa fondamentale che in Europa c'è, la Germania virtuosa da noi continua a zoppicare, continua a non decollare. Questo è un handicap notevole per il mondo dei giovani perché ricordiamoci insomma che saranno loro il mondo di domani, quindi le misure riguarderanno loro, l'entrata nel lavoro riguarderanno loro, i nuovi lavori, i nuovi contratti saranno loro. E io sono molto d'accordo con il professore. È giusto tutelare le persone più anziane che si avviano diciamo alla fase discendente del percorso lavorativo, ma è altrettanto doveroso che il nostro paese si occupi e investa sulle nuove leve perché sono le nuove leve che sono quelle che faranno ripartire il nostro paese. E sono poche. Tra l'altro, Claudio Bighinati, questi progetti hanno anche attuazione sui territori con esempi concreti? Assolutamente. Noi come Migliora Magna, giovani, sono anni che portiamo avanti. Un progetto che quest'anno ha preso il nome di Creiamo l'impresa. Gli anni scorsi era che l'impresa poi fa è da grande, dove di fatto alcuni giovani imprenditori fanno da tutor ad alcune scuole, parliamo di scuole, licei o istituti tecnici, dove di fatto vengono preparati dei business plan che poi concorrono al fine di un vincitore con dei premi, eccetera. Quindi siccome tra gli scopi fondamentali, principali del gruppo giovani c'è quello di diffondere la cultura di impresa nelle scuole, nelle università, di avvicinare i ragazzi, i giovani, i studenti all'impresa, io vado oltre, farli entrare progressivamente nelle imprese fondamentali, questo è un progetto su cui da anni investiamo, è molto importante, e nel mio mandato appena iniziato ci terrei anche negli anni prossimi proprio fare in modo che ci siano quasi dei percorsi di stage, cioè proprio farli entrare in azienda perché ormai è fondamentale. Concordo con Giorgia Bucchioni che l'alternanza scuola-lavoro è un tema fondamentale. Tra i dati del convegno recente di Alma Laurea, tre mi hanno stupito alcuni positivamente e alcuni negativamente. Negativamente il dato che c'è prima il direttore Cammelli, che solo il 30% dei 19 anni si iscrive all'università. Adesso non ho conoscenza della media europea, ma penso sia un dato veramente molto basso. Il secondo dato positivo nella negatività generale è il fatto che comunque entro cinque anni i laureati trovano un posto di lavoro. Questo è importante perché rispetto a chi non ha laurea, fa molto più fatica entrare nel mondo del lavoro, e peraltro i laureati hanno comunque un tasso, un livello di remunerazione più alto nella media. Quindi questo è un dato, ripeto, nella negatività complessiva del mercato del lavoro attuale, però è un dato positivo che deve incentivare i ragazzi a formarsi e a studiare. Il terzo dato che invece mi ha stupito negativamente è che su circa 15.000, mi sembra, giovani laureati che vanno all'estero in cerca di lavoro perché in Italia fanno fatica, poi solo 5.000 rientrano, un terzo. Questo è un dato molto grave, che vuol dire che noi, tanti buoni cervelli, vanno all'estero a imparare ma poi non portano niente dentro. Questo è un dato dei tre dati e quello è un altro che mi ha stupito negativamente. Ha studiato? No, ma a me fa molto piacere che abbia dato un'occhiata a tutta la documentazione che a me pare molto importante. Noi l'abbiamo pensata perché se le statistiche servono soltanto per guardarsi al passato, naturalmente non serve, non serve. Il nostro primo Presidente della Repubblica aveva detto guardare le cose perché servono a proiettare il futuro, naturalmente. E certo che io, fra le cose che ha detto giustamente la Presidente, dico la Vice Presidente, ricordo che Schleicher, che è uno dei direttori dell'Ocse, naturalmente, dice esattamente le cose che lei ha detto. E cioè che oggi i sistemi di istruzione debbono preparare per lavori che non sono stati ancora inventati. Questo è. Per tecnologie che non sono stati ancora inventati, per problemi che ancora non sappiamo che nasceranno. È evidente che questo diventa sì fondamentale. Perché se noi pensiamo che un giovane debba iscriversi all'università, alla quale uscirà, nella migliore dico delle ipotesi, fra quattro anni, o fra cinque anni o fra sei, immaginando che debba si rispondere, debba qualificarsi, dico per rispondere a quello di cui il Paese, io sono convinto che la gran parte degli imprenditori non sono in grado di sapere fra sei anni, sette anni, di che cosa ci sarà bisogno. E allora se la preparazione non è una preparazione approfondita, naturalmente, in modo tale che uno possa, giustamente come lei aveva detto, insegnare a imparare per tutta la vita, diventa, dico, molto molto sì rischioso. E questo è il cambio di approccio a cui facevamo riferimento in apertura di trasmissione. Il tema, forse, a questo punto è, voi me lo confermerete, non tanto essere preparati, e questo era il Jobs Act di Obama nel 2011, visto che di Jobs Act si parla anche in Italia, a aiutare i giovani, il governo non deve aiutare i giovani a cercare un lavoro dipendente, andare sotto padrone, ma l'incentivo deve essere a inventare un lavoro, creare un lavoro, creare delle risposte a delle nuove esigenze, grazie appunto alle prerogative che dicevamo prima. Ma c'è questa condizione? Ma questa condizione c'è sicuramente, però è vero che è molto più forte, l'abbiamo rilevata, è molto più forte nel sud, dico, dell'Italia, dove mancando le aziende, mancando le aziende, la gran parte, dico, delle aziende, essendo molti in crisi, naturalmente i giovani debbono naturalmente mostrarsi desiderosi di imparare a fare un mestiere, e questo naturalmente lo vediamo chiaramente, perché tra il sud e il nord del paese, e quelli che diventano piccoli manager in qualche modo, sono molto più consistenti, dico nel sud, dico sì, del paese, e anche a livello europeo mi pare che l'Italia stia scegliendo una strada molto importante, dico per carità, però che non vede particolare, dico, attività e riflessi in quello che avviene in Europa. E allora seguendo per concludere, perché siamo proprio a una considerazione finale, da questa serie di appuntamenti creati, come abbiamo visto negli ultimi tre anni, perché è la sua esperienza diretta, si è respirata questa inclinazione, questo DNA nuovo, possiamo dire, insomma nei giovani, della creazione, della novità, o è ancora forte la ricerca di una sicurezza e di una garanzia di un tipo di lavoro dipendente? No, i giovani sono pieni di entusiasmo, sono molto proiettati al futuro, molto proiettati al mondo, all'Europa, sono semmai trattenuti da noi imprenditori quando interagiscono con noi, che comunque siamo ancora, mi ci metto anch'io che ho 41 anni, un po' legate alle vecchie logiche, no, si respira. Questi giovani sono assolutamente proiettati, hanno voglia di fare e ci sono delle eccellenze incredibili. Allora adesso ci dobbiamo fermare e poi sentiamo un'esperienza diretta di che cosa fa una giovane studentessa dell'Università di Bologna, che si è laureata e che ha dei sogni, ma delle concrete esigenze a cui dare risposta tra poco.